La vittoria serve ad entrambe, il Miglianico per le ultime speranze di salvezza diretta, la Torrese per un buon posizionamento e playoff. Al Fratelli Ciavatta ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un grande incontro. Dirige la gara Niccolò Rodigari della sezione di Bergamo. Dopo il minuto di raccoglimento per il decennale del sisma aquilano, le due squadre partono fortissime in un primo tempo, senza pause. 80 secondi, Polisena vola sulla destra, esterno della rete ed illusione ottica del gol. La risposta ospite affidata ad una doppia occasione da fuori area, Tini e Puglia sbattono contro i guantoni di Kevin Ferrara, ben posizionato. Gioca bene sulla sinistra di Crescenzo, palla per Orta che manca di pochissimo l'appuntamento con il pallone. Chi invece non perdona, dall'altra parte Gabriele Puglia, coordinazione e conclusione che questa volta supera anche Ferrara, non esente da colpe. Vantaggio torresi alla mezz'ora ed ottavo centro in campionato per l'attaccante. Risposta Miglianico veemente, Mennillo tenta il pallonetto, riflessi, Felini di Castrone e palla in angolo. Ci riprova la squadra di Tacchi, si mette in proprio Di Muzio che manca di poco il gol dell'1-1. Nel finale di tempo punizione assegnata alla Torrese e battuta in maniera magistrale da Bombermaio. 19esima rete in campionato, doppio vantaggio però, troppo pesante per quanto fatto vedere dai padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Cristofari ha l'obiettivo di amministrare il successo. Due minuti e Puglia va a tu per tu con Ferrara, bravo il portiere a chiudergli lo specchio. Si stacca dal ruolo di rifinitore Tini che calcia verso la porta senza inquadrare il bersaglio grosso. C'è tempo per vedere una super parata di Ferrara su Maio. La sensazione è che la partita stia seguendo un percorso lineare a favore della Torrese. Ma il Miglianico e soprattutto Antonio Polisena non sono d'accordo. Il numero 10 tocca il pallone quel tanto che basta per riaprire le ostilità. 1-2, dodicesimo sigillo, ma la scintilla della rete non accende. La squadra di Tacchi che rischia di pervenire al pari solamente al quarantesimo con una mischia non risolta positivamente. La Torrese in camera ha tre punti fondamentali che matematicamente le danno l'accesso ai playoff. Il Miglianico rimane a 38 e resta da capire il posizionamento finale per gli spareggi salvezza. Eh beh sì, effettivamente è così, però come dico sempre gli episodi spostano le traiettorie della partita e anche oggi purtroppo due episodi negativi ce l'hanno spostata. Che cosa ha detto ai suoi ragazzi al termine di questa partita? E niente che abbiamo quest'altra chance di poter mantenere la categoria tramite playoff e ce l'andremo a giocare come stiamo facendo fino adesso perché comunque la squadra è viva. È viva, l'ho dimostrato contro la seconda della classe che non è lì sopra a caso e se avessimo pareggiato penso che non avremmo rubato nulla e questo ci deve far capire che comunque ce la giocheremo fino alla fine e che comunque la squadra c'è. Mister Cristofari è una delle vittorie più importanti di questo campionato, tra l'altro oggi non ha vinto nessuno in alto. Sì, è dimostrazione del fatto che chi sta lottando per non retrocedere sta vendendo caro la pelle. Noi domenica scorsa con l'Angolana l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle che le squadre che vogliono mantenere la categoria stanno dando tutto. Oggi l'ennesima dimostrazione, il Miglianico ha fatto una grandissima partita, probabilmente ai punti avrebbe anche potuto strappare un pareggio. Siamo stati bravi a portarla fino alla fine, abbiamo avuto l'occasione per chiudere, non ci siamo riusciti, alla fine ci siamo abbassati un pochino troppo, concedendo qualcosina, ma una vittoria preziosissima che ci assicura il secondo posto e quindi questo per noi è molto importante. A livello di atteggiamento si era rivisto quella torrese che invece non aveva visto contro l'Angolana? Sì, assolutamente sì, mi fa piacere che mi sottolinei questa cosa. In settimana con i ragazzi ci eravamo guardati negli occhi, avevamo detto che la prestazione di domenica era solo un caso e oggi volevo rivedere la squadra viva, una squadra che aveva fame, che voleva portare a casa il risultato e credo che per 60 minuti la squadra ha fatto molto bene, e poi è scesa anche un pochino a livello fisico, sono tornati assolutamente loro in gara, quindi sono molto soddisfatto e contento.